ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ci troviamo a Cerezzola per andare a fare sentieri di trinità siamo in compagnia del gruppo o della squadra mdr bike qui davanti a noi gli altri sono già su ciao dopo facciamo la nostra buona salita il nostro buon affanno non vi ho spiegato ma nel video magari vi potrebbe saltare all'occhio che purtroppo non c'è più la mondrachina la mondrachina è diventata di un altro proprietario sono passato una bici un po più all mountain enduro poi magari vi farò un video dettagliato sul tema arrivati in cima andiamo col secco un po' un po' un po' un po' un po' un po' diciamo Grazie a tutti. Siamo sul secco. Opa! Sì. Sì. Non frena. Un secco particolare non trasporabile. Sì. 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 Forcella è aperta. Stefano è aperta la forcella è. 100 euro di forcella. Sì. 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 Piano. Sì. 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 d'acqua così non si non si Questa qual è? Come si chiamano ingorghi montagnani Pericolo Oh che bella riva Sì Senti come scricchiano i dentini delle gomme Maledetti Bella spazzolata Wow Sì 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 Bella Cassivo Una bella turbina Bella ripidone Sì Si va a chiudere con una bella birra Con la cumpa Vi ringrazio per aver visto questo video E niente Se vi è piaciuto lasciate un like Se non vi è piaciuto Lasciate un dislike Fate quello che volete Per me serve a crescere E accetto anche i vostri consigli Ciao alla prossima Sì Sì Sì